Il 15 di ottobre potrebbe segnare una data di svolta nella lotta contro il covid, il green pass diventerà obbligatorio anche nelle aziende. Senza green pass bisognerà presentarsi con il tampone negativo, insomma si darà una stretta a questa lotta che ci ha accompagnato per quasi due anni. Come si stanno organizzando le aziende, come si stanno organizzando gli stessi lavoratori e con le sospensioni che potrebbero esserci, visto che siamo vicini all'80% dei vaccinate, quindi il 20% rischia la sospensione e poi vedremo anche che numero sarà in Friuli Venezia Giulia. Come potrebbero andare avanti queste aziende, soprattutto pensiamo alle piccole e piccolissime. E poi c'è la novità, la proposta del green pass aziendale. Lo chiederemo questo tutto a William Pezzetta, che è il segretario regionale della CGL. Grazie per essere venuto qua, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, si rischia Pezzetta di perdere forza lavoro? Ce lo possiamo permettere in questo momento? Eh, questa è una gran bella domanda, alla quale non è facile rispondere. È chiaro che per molte aziende questo tema qua del green pass e del rischio di perdere forza lavoro è un tema attuale, su quale bisognerà fare i conti. Dietro una norma che io continuo a dire, a mio avviso, è anche un po', non dico pastizzata, ma ovviamente lascia tanti punti interrogativi e di difficile gestione, che scaricarli sulle parti sociali, diciamo così, io ritengo sia stato inopportuno, anche perché di difficile gestione ci troviamo, anche con dei paradossi e con delle situazioni abbastanza complesse. Per cui è un tema molto dedicato, ma credo e mi auguro che da qua a 15 ottobre anche si comprenda meglio come gestirlo, perché ci potrebbero essere problemi e per i lavoratori, non può neanche essere giusto che se io non sono vaccinato devo avere addirittura il rischio di diventare povero, visto che è previsto anche che non mi venga dato lo stipendio, come comprendo anche le aziende che magari impostazioni ovviamente di rilevanza possono trovarsi senza lavoratori con tutte le conseguenze poi per la produzione che possiamo immaginare. Voi avete spinto sulla gratuità dei tamponi nella prima fase, avete mantenuto questo tipo di linea? Sì. Siete dello stesso tipo di linea? Sì, lo so che è una linea che non è stata anche facile, tante volte ha creato anche al nostro interno delle incomprensioni, dico anche nel mondo del lavoro. Però credo che oggi prima di tutto bisognasse avere una linea chiara, il più possibile trasparente, la nostra linea rimane quella del chiedere al governo che si assuma la responsabilità e metta il vaccino obligatorio, che taglierebbe la testa al toro, in alternativa ovviamente io non posso pagare per andare a lavorare, questo è il concetto. Ecco, il diritto del lavoro è sacrosanto, però anche dall'altra parte chi ha fatto gli propri sforzi, cioè chi ha deciso di vaccinarsi, se poi gli diamo anche il tampone gratuito dall'altra parte, uno dice ma chi me l'ha fatto fare? Il vaccinato potrebbe dire. Non le sembra? No, no, questa è una domanda che mi è stata rivolta tantissime volte, mi è stata fatta moltissime volte, ne comprendo anche per un certo aspetto anche la domanda, però io parto da qua, noi dobbiamo il più possibile evitare divisioni, io vedo che sempre di più si sta andando verso una contrapposizione pericolosa, Guelfi-Ghibellini, e che non aiuta. E torno a ribadire... Un po' a Medioevo ci siamo ritornati. Un po' a Medioevo anche questo, Sì, con tutte le dicerie anche che tante volte sento dire in giro, ma chiaramente non dobbiamo dividere il mondo del lavoro, ma soprattutto io devo fare un ragionamento anche oggettivo e sindacale, non solo soggettivo, e oggettivamente il contratto nazionale del lavoro, il diritto del lavoro, se uno non trasgredisce una norma non può essere penalizzato. Da lì dobbiamo partire. Per questo chiedo che bisognerebbe invece che il governo sia sommesso a qualche responsabilità. Non è una furberia, è perché non c'è altra alternativa, altrimenti la patata... Non le aziende, anche se ci sono alcune... Non le aziende, non dovrebbero pagare le aziende, secondo me? No, no, io dico che il vaccino lo dovrebbe fare, lo dovrebbe fare... Il governo dovrebbe fare una legge sul vaccino, sul tampone, e senz'altro non il lavoratore. Non posso, io lo dico sempre, non è che io debba pagare per andare a lavorare, quando tra l'altro non ho trasgredito nessuna forma di legge. Favorevole a quelle aziende che pagano il tampone? Certo, noi stiamo cercando anche di fare accordi con molte aziende, anche perché le aziende si sono accorte che hanno un problema, anche loro a casa loro, perché la percentuale di lavoratori non vaccinati, per i dati che sto vedendo io, per le situazioni che mi vengono descritte, è superiore a quello che pensavo. Più o meno, no? Io credo che siamo a un 20-25%, addirittura. Buono. E in alcune aziende... Quindi più o meno quanti sono i lavoratori qua in Friuli, in Mazzaggiuro? Noi possiamo dire che indicativamente tra gli 80 e i 100 mila lavoratori non sono vaccinati, prendiamola un po', ovviamente, con le pinze, ma su un mezzo milione di lavoratori di tutte le categorie che vi lavorano ci può essere questa percentuale. Eramo tutti i lavoratori, quindi pubblico e privato? Sì, pubblico e privato, autonomo e... insomma, certo, è una percentuale molto variegata, noi possiamo avere delle realtà dove è quasi inesistente e delle realtà dove magari hai il 40%. Allora, Pezzetta, io le lancerai questo tipo di servizio realizzato con un'intervista a Anna Marischi e Daniele, presidente di Confindustria Udine, Green Pass aziendale, ha sentito parlare, oggi se ne parla, questa idea, questa innovazione, insomma questa proposta. Sentiamo l'intervista, poi lanciamo la pubblicità, torniamo in studio, me la commenta e proseguiamo con la trasmissione. Andiamo con il servizio. Presidente, la data del 15 ottobre si avvicina, c'è un grande problema delle imprese che ad oggi non sanno né possono sapere quante persone entreranno in azienda. C'è grande preoccupazione, lei questo tema l'ha affrontato oggi con il ministro Giorgetti che era qui in regione. Sì, fra gli altri temi questo è stato uno dei focus principali dell'incontro di oggi perché, come giustamente hai anticipato, le aziende non possono sapere chi verrà a lavorare dal 15 ottobre in poi e siamo in una situazione paradossale perché abbiamo definito le imprese in maniera certificata come il motore propulsore che ha tenuto in piedi il nostro paese durante il periodo più nero della crisi da Covid ma anche nelle crisi precedenti. Ora si rischia di mettere in discussione la continuità produttiva perché davvero non sappiamo il numero di persone che decideranno di farsi il Green Pass quindi di farsi un tampone ottenendo il Green Pass oppure le persone che decideranno semplicemente di stare a casa con la sospensione della remunerazione. Ci sono delle possibili soluzioni a questo problema? Il problema come ha detto il Ministro oggi è decisamente complesso perché ci sono più interessi in gioco come dicevamo la continuità produttiva dall'altro ma è ovvio che dobbiamo continuare a fare di tutto per garantire un incentivo alla vaccinazione. Per mantenere la capacità produttiva per continuare a mantenere la capacità produttiva l'unica cosa che un'azienda può fare è quella di offrire i tamponi ai propri collaboratori ma questo va contro un concetto di educazione civica di etica e di conseguenza siamo un po' in difficoltà lo sono anche i sindacati perché vedo che nei tavoli di confronto il problema è da entrambe le parti quindi ho provato a fare una proposta al Ministro Giorgetti che è quella di un Green Pass aziendale nel senso che un tampone potrebbe valere esclusivamente per andare a lavorare senza dare la possibilità successivamente a questi collaboratori di poter tornare a far parte della vita pubblica in tutti quei servizi non essenziali che senza Green Pass non sono accessibili ristoranti bar, teatri cinema eccetera quindi questa potrebbe essere una soluzione che da un lato garantisce le imprese dall'altro garantisce anche il fatto che tutto il disincentivo messo in piedi dal governo per far sì che ci sia sempre un numero minore di non vaccinati possa continuare ad avere il suo peso altri temi affrontati col Ministro? un altro tema importante è stato quello del mismatch fra domanda e offerta di lavoro quindi è entrato sul tavolo in maniera prepotente il tema ITS abbiamo fatto presente quella che è una best practice messa in piedi da Confindustria Udine insieme all'Università di Udine e al MIS quindi la fondazione Malignani quella di creare un 2 più 1 ovvero mettere insieme le competenze tecniche e sul campo dell'ITS insieme ad una laurea di primo livello universitaria questa è una prova un progetto pilota che è stato messo in piedi e il Ministro è stato molto interessato e penso che lo riproporrà sul tavolo del Consiglio dei Ministri e dopodiché il tema del green perché green sì ma non a tutti i costi ormai è uno slogan quindi è diventato chiaro all'opinione pubblica e ho fatto presente che le tasse sul green seppur vanno a toccare un tema che è indiscutibilmente giusto devono essere sostenibili per le imprese altrimenti troppe imposizioni sul green creano un aumento della delocalizzazione produttiva quindi i paesi virtuosi continuano a perdere produttività che è una cosa che noi dobbiamo evitare aumentano i costi di importazioni aumentano le guerre dei dazi quindi ho richiesto che i piani del PNRR non vadano a sortire esclusivamente un effetto servizio ma vadano a incidere sull'aumento della produttività aziendale ovviamente nel rispetto dell'ambiente dopodiché è giusto che le imprese virtuose vengano incentivate e quindi ottengano dei premi dopo la concorrenza farà la sua parte non serve imporre tassazioni eccessive questo ed altri temi sono stati posti all'attenzione dei tanti big della politica da segretari di partito a ministri che sono venuti in questo periodo in friuli per la campagna elettorale insomma c'è un dialogo forte con il governo peraltro il presidente del consiglio Draghi ha partecipato all'assemblea di Confindustria a Roma sì nelle ultime due settimane effettivamente sono passati per il friuli o comunque il friuli è andato a Roma a incontrarli praticamente la maggior parte dei ministri più dicevi bene il nostro primo ministro che come ormai è chiaro è una preferenza di Confindustria Udine che ha sempre sostenuto dopodiché per noi non ci sono interlocutori privilegiati chiunque abbia la possibilità di portare i nostri temi sul tavolo del consiglio dei ministri per noi è un interlocutore serio e col quale vanno condivise le nostre problematiche se poi vogliamo trovare veramente la preferenza di Confindustria Udine è il nostro governatore che ci ascolta in qualsiasi momento eccoci tornati a Screenshot oggi parliamo di Green Pass e lavoro al mio fianco Vivian Pezzetta segretario regionale della CGL perché ovviamente grande importanza hanno anche i sindacati oltre quindi l'organizzazione dei lavoratori oltre alle associazioni di categoria in questo passaggio che deve consentire ovviamente la forza lavoro di essere di andare avanti nella produttività delle varie aziende senza andare a discapito ovviamente delle stesse perché si rischia abbiamo detto 80-100 mila lavoratori a casa con sospensione del lavoro nel momento in cui appunto non c'è la possibilità di accedere al lavoro senza il tampone o il Green Pass si rischia grosso soprattutto le piccolissime aziende se non sbaglio no certo come dicevo fare i conti perché come diceva bene la Presidente c'è tutto il tema della privacy però più o meno l'indicazione a meno dai nostri confronti che questa possa essere la percentuale abbiamo sentito la Mareschi Daniele che appunto diceva parlava di questo Green Pass aziendale ovvero tampone effettuato in azienda ma che vale in azienda a lavoro non per l'ora dopo bar e ristoranti potrebbe essere una soluzione questa una via di mezzo che voi state cercando della concertazione si può approfondire è un'idea anche interessante che in qualche maniera da quello che posso capire non discrimina il lavoratore non lo mette nelle condizioni di non poter lavorare o di farsi carico lui dei tamponi è chiaro che come diceva la Presidente deve venire emanato dal Governo perché ad oggi il sistema che regola è il Green Pass e il Green Pass è un documento personale per cui può essere una soluzione interessante noi stiamo andando anche alla ricerca proprio di fare accordi che aiutino i lavoratori a 360 gradi mi auguro che il Governo poi possa fare la sua parte allora io volevo lasciare questa parte dedicata praticamente al Green Pass e al lavoro per dedicarmi in questi ultimi dieci minuti ad altri temi adesso chiedo anche al regia magari di far vedere un link direttamente da Telefriuli si parla di un infortunio sul lavoro avvenuto proprio questa mattina un ferito un 27enne tranquillizziamo subito non è grave però con la fresa ovviamente si è fatto male alla mano parliamo di cronaca nera non nel vero senso della parola perché comunque non c'è stato un decesso però c'è sempre questo dato che è della crescita degli infortuni ne vediamo tantissimi in Italia ma anche qua in Friuli Mezzaggiuolo non è che siamo un'isola d'oro da questo punto di vista no purtroppo no anzi se non ricordo male noi dopo dallo sbrocco diciamo così del lockdown dall'inizio di questa primavera qua noi siamo la terza regione peggiore d'Italia con infortuni mortali abbiamo un dato se non ricordo male che è già eguagliato al dato del 2019 come molti sul lavoro ma anche infortuni in generale noi come regione insomma abbiamo dei dati negativi questo per dire che gli infortuni avvengono non solo sul luogo ma anche in itinere depurato dagli itinere noi abbiamo dei dati di infortuni in crescita se non ricordo male di un 15% depurato ovviamente dagli infortuni in itinere non tenendo conto anche quelli da Covid perché ogni tanto anche questi in primo tempo ovviamente li inseriva tra gli infortuni sul lavoro se uno veniva contagiato sul lavoro è chiaro che è un tema purtroppo sempre attuale c'è stato un incontro col governo proprio in questi giorni qua tra le organizzazioni sindacali noi in regione abbiamo fatto un protocollo con la Rosolen che cerca di sensibilizzare questo ci sono alcuni piani importanti interessanti sui quali noi vorremmo poter poi alla fine potessero essere sviluppati con le confindustrie dentro un progetto ambizioso che parla infortuni mortali zero questo sarebbe il progetto ambizioso però sul quale c'è un tema di formazione secondo me costante e continua e c'è un tema ovviamente di cultura formazione sulla sicurezza cultura molto spesso ad esempio in edilizia si muore ancora come nell'ottocento la gran parte di infortuni in edilizia è caduta dall'alto però anche che sono cresciute tantissime le aziende anche per la questione delle super bonus magari aziende che si sono reinventate certo ma quando vedo magari persone nei tetti senza la cintura di sicurezza o quant'altro allora capisco la velocità capisco la produttività però la propria vita penso poi non abbia prezzo è una questione molto spesso proprio di cultura di formazione ed è un tema su quale dobbiamo battere ultima cosa direi anche un ruolo lo devono avere anche gli organi di controllo che in questi anni purtroppo sono stati svuotati e noi siamo oggi con un organico assolutamente sottodimensionato non solo in regione in tutta l'Italia bisognerà rifare politiche che rimpinguino ovviamente questi istituti qua sicurezza formazione per quanto riguarda sicurezza sul lavoro ma anche mi viene da pensare a formazione anche per rioccupare per chi è disoccupato ma anche tutti quei ragazzi che escono fuori dal mondo dell'università delle superiori che faticano a trovare lavoro o meglio sono le aziende stesse che chiedono ma poi non sono specializzati questi ragazzi cioè il classico mismatch di cui parlava prima la presidente Daniele noi abbiamo un paradosso anche nella nostra regione che ci sono aziende che cercano determinate professionalità e non le trovano e ci sono molti lavoratori o lavoratrici specialmente magari espulsi dalle aziende anziani avanti con l'età poco scolarizzati che non trovano lavoro ora c'è sì una questione di incrocio tra domanda offerta e io credo anche di una questione di programmazione bisogna che a partire dalla scuola dalla formazione si cerchi di capire verso dove va il mondo del lavoro per cui creare ovviamente preparare le persone e dall'altro anche intervenire su quel numero che non è basso di molte persone magari oltre cinquantenni che molto spesso non trovano ricollocazione ed è per essere sinceri di difficile formazione perché uno a cinquant'anni è difficile che io lo formi per fare il tecnico del computer se non ha mai usato il computer per cui questa è la grande sfida e avremo un incontro anche qua con la regione proprio domani per comprendere bene come affrontare questo in previsione del se il governo manterrà questa sua diciamo così scelta che aveva fatto da noi non condivisa quella di di sbloccare il 31 di ottobre infatti questa è una dell'argomento che voleva mi ha incalzato giustamente su questo tipo di argomento perché noi adesso abbiamo parlato fino adesso classico il 15 di ottobre perché si parla di green pass non abbiamo parlato di quella che è un'altra data che è quella del 31 di ottobre sblocco dei licenziamenti per quanto riguarda tutti quei settori possiamo chiamarli piccoli impropriamente commercio servizi fuori dall'industria che non sono nell'industria e che cosa accadrà lì? stiamo parlando di settori che secondo me possono rappresentare un 20-25% del PIL della nostra regione e che possono impiegare 100 e passa mila persone per cui più di un quinto della manodopera presente dire cosa potrà accadere non è facile perché sono realtà molto frammentate molto piccole dove spesso anche noi come sindacato non siamo presenti sfuggono anche la cassa integrazione non hanno diritto alla cassa integrazione le cassa integrazione che hanno potuto avere ovviamente sono quelle che erano state emanate per decreto è chiaro che questo è un tema che dovremo anche affrontare in regione se no torno al paradosso di prima aziende che non trovano personale lavoratori che vengono espulsi e che troveranno difficoltà grossissime a riqualificarsi e c'è il tema degli ammortizzatori sociali si sta discutendo a Roma ma vedo che la discussione va molto a rilento ad oggi l'unica certezza è che se decade questo blocco per molte realtà è il percorso del licenziamento noi dobbiamo evitarlo però dopo quello sblocco del licenziamento che c'è stato quest'estate e delle grandi industrie non c'è stato quell'effetto a domino che magari si spostava aspettare sì qualche lettera via mail è giunta così lo sappiamo soprattutto ha sbloccato le grandi crisi che erano pregresse e che in qualche maniera il lockdown e i decreti del governo avevano congelato ma hanno riguardato di più grandi aziende fuori dalla nostra regione emblematico è il caso di quell'azienda se non ricordo Malinga Media che addirittura li aveva licenziati per email dove noi abbiamo ricorso e abbiamo anche vinto questo ricorso se non sbaglio neanche dopo due giorni tutto sommato esatto tutto sommato il manifatturiero qua in regione ha tenuto c'è una produzione un fatturato che comunque quest'estate è andato è andato bene in questo va fatto forse complimenti anche a un tessuto imprenditoriale che l'ha detto ha retto ma anche si è fatto coraggio di aver investito complimenti anche al sindacato che attraverso i protocolli sicurezza sicuramente ha un tessuto industriale che in qualche maniera ovviamente ha tenuto ma ha tenuto anche grazie agli accordi i protocolli di sicurezza che noi abbiamo fatto durante il lockdown che hanno permesso alle aziende di non chiudere e di continuare e mantenere la produzione continuare a lavorare e questi questi protocolli di sicurezza che forse abbiamo anche poco pubblicizzati ma che in qualche maniera hanno regolamentato rigorosamente distanze mascherine sanificazione e quant'altro hanno fatto sì che oggi se noi andiamo a guardare i dati nella nostra regione solo il 4% dei casi sono dati INAID dei positivi nella nostra regione da quando è iniziato il covid stiamo parlando per cui di 100 e passa 1000 positivi solo il 4% sono del mondo del lavoro e di questo 4% due terzi sono quelli collegati al mondo della sanità per cui voglio dire che è stato un modello che ha funzionato bene peraltro un modello che ha anticipato anche quello del governo siamo stati i primi possiamo dirlo ogni tanto la nostra piccola regione con orgoglio può dire di essere stata la prima a fare questi protocolli allora l'ultima cosa che le chiedo questo piano nazionale della resilienza e questo PNR insomma che dovrebbe dare la vera svolta noi abbiamo parlato di svolta magari impropriamente dal 15 di ottobre ma questa bilancia io lo vedo ancora molto lontano ne parlavo anche l'altro giorno con la regione e tutto ancora in mano ai ministeri è chiaro che sarà fondamentale come noi useremo queste risorse ma sarà anche fondamentale che queste vengono accompagnate dalle riforme noi abbiamo in piedi la riforma fiscale abbiamo in piedi la riforma della giustizia ma c'è anche tutto il tema delle pensioni che non bisogna dimenticare e la riforma degli ammortizzatori sociali se saremo capaci di investire le risorse creare servizi darli anche nelle aziende in qualche maniera come sostegno per le aziende che investano in produttività ma che questa produttività e questo investimento che viene dato si tramuti in maggiore e buona occupazione se saremo capaci di gestire questo e di fare questo io credo che noi avremo un futuro insomma con grande possibilità bene il tempo è tiranno io lo ringrazio vi saluto tutti quanti e domani torno a screenshot con Daniele Micheluz ci vediamo venerdì grazie arrivederci arrivederci a presto a presto Grazie a tutti.